Aspetta Ciao ragazze In questo video ho deciso di partecipare al video tag indetto da Nicole del canale Chi sta nel Makeup01 In pratica sono delle domande dove bisogna scegliere se una cosa o l'altra Allora, ora una mia amica partecipa molto volentieri Io faccio le domande E io risponderò Bene, iniziamo Allora, Makeup, blush o terra? Direi blush Perchè mi trovo meglio Perchè quella sera che mi fa l'effetto troppo marocchina Non mi piace Lucida labbra o rossetto? Direi 100.000 volte di più lucida labbra anche se il mio ragazzo lo odia perchè appiccica Eyeliner o mascara? Decisamente eyeliner perchè da una lucentezza di quell'occhio mi piace più Fondotinta o correttore? Direi correttore e non mi copre tutte le occhiaie che ho quando mi sedia la mattina Ombretti neutri o colorati? Colorati decisamente Sono trucchi abbastanza forti che ti notano Ombretti pressati o in polvere? Qui sarei indecisa però dico in polvere perchè trovo molti più colori Ci sono diverse sfumature Si possono acquistare da diverse case cosmetiche Pennelli o spugnette? Decisamente pennelli perchè mi trovo meglio a fare diverse sfumature sugli occhi e sul viso Allora adesso passiamo a unghie OPI o China Glaze? Questa è una bella domanda perchè OPI non ho mai provato Ne ho sentite parlare molto bene Ho provato solo due smalti della China Glaze Per il momento mi sono trovata molto bene Quindi direi China Glaze Lunghe o corte? Lunghe anche se non ci riesco mai perchè mi si spaccano appena diventano più lunghe Acriliche o naturali? Naturali mi piacciono di più Però forse acriliche fatte con gel sono più belle da vedere Quindi direi naturali ma allo stesso tempo Sono un po' indecisa Colori chiari o scuri? Scuri mi piacciono di più soprattutto la sera quando esco Oppure vabbè anche di giorno vedo in giro tranquillamente quelle mie di qualsiasi tipo Non nere perchè nere è proprio un omicidio Fiore o senza? Dipende dalle occasioni Va bene Allora passiamo al corpo Profumo o acqua profumata? Profumo che invece ti lascia una scia dietro quando passi Buonissimo, no profumo profumo Latte idratante o burro per il corpo? Latte idratante Mi trovo meglio, è meno piccicoso, si asciuga più in fretta Doccia o schiuma o sapone? Doccia o schiuma, mi trovo meglio Lush o altre aziende simili? Direi Lush, mi piace tantissimo il profumo che creano tutte quelle cose naturali Non mi piace, non mi piace Concordo Moda Jeans o pantaloni della tuta? Per uscire decisamente jeans, in casa pantaloni della tuta perchè sono comodi Manica lunga o corta? Inverno lunghe e ne state corte Va bene Poi dipende Perchè guardate ho una maniche lunghe e sono una maniche corta Quindi dipende Vestiti o gonne? Gonne Abbastanza corte Gonne in persone più comode Fantasia strisce o plaid? Né uno nell'altro Non mi piace Né una cosa nell'altra Impredito o sandali? Sandali Mi sono di più Sono molto più eleganti Più portabili Sandali Sciarpe o cappelli? Sciarpe Mi trovo meglio Mi coprono il collo Soprattutto a me non mi ammalo Sciarpe, sciarpe Orecchini a bottoncino o pendenti? Pendenti Qualsiasi tipo di pendente Mi piace molto di più che vedere solo sul logo Collane o bracciali? Collane Mi piacciono di più Tacchi o scarpe basse? Decisamente tacchi Il mio di tutti i tipi Tutti i modelli Altiva Tacchi Stivali da cowboy o da cavallerizza? Da cowboy I cosiddetti camperos Bellissimi Ne ho un paio rosa stupendi Giacca o felpa? Felpa Più comoda Allora adesso passiamo a capelli Lisci o ricci? Lisci Anche se in realtà li avrei abbastanza mossi Tendenzi a ricci Ma lisci tutti i giorni Cignonne o coda di cavallo? Coda di cavallo Molto più comodo Cignonne mi fa di vecchia Non mi piace Forcine o mollettine? Ecco Qui nasce un dubbio Ok Io chiamo le mollettine anche quelle che si chiamano in realtà forcine Quindi direi forcine Lacca o gello? Lacca Lacca Che tiene più ferma la capigliatura senza fare danni Lunghi o corti? Decisamente lunghi Cioè non so se riuscite a notare Lunghi Chiari o scuri? L'inverno scuri ne state chiari Però non chiari come il biondo ma chiari in si rosso acceso fuoco Cioè è proprio stupenda Però vi invierete Frangia o ciuffo laterale? Tutte e due Ho la frangia però ciuffo laterale La raccolti o sciolti? Sciolti Tranne quando si va a dormire oppure quando sono... Dipende dall'occasione però pensiamo sciolti Allora un po' di domande random Pioggia o sole? Sole, centomila volte sole Pioggia o tristezza Estate o inverno? Inverno, mi piace di più la neve, il clima natalizio Inverno, inverno Autunno o primavera? Primavera, sbocciano i fiori, ci sono gli animali che iniziano a uscire dalle tarni Cioccolato o vaniglia? Vaniglia, mi piace di più il gusto della vaniglia Finito Bene, il quiz è finito, spero vi sia piaciuto Ciao ragazze Ciao